La società che comunque nel suo piccolo è molto organizzata e ha fatto di tutto per portarmi a Sponda Tiger. La motivazione è quella che ho dato più volte, nel senso che questo per me è più che un lavoro ed è una grande passione. Quindi la passione non tramonta mai e ti dà la possibilità forse di andare anche oltre i tuoi limiti. Come hai detto tu, leggendo quello che c'è scritto prima sullo schermo, probabilmente alla mia carriera non potevo chiedere di più e anzi sono stato fortunato perché ci sono tanti sportivi che fanno un'intera carriera senza mai avere la gioia di vincere. Ho sposato questo progetto di Forlì perché comunque nel suo piccolo ha tanta voglia di far bene, ha tanta voglia di crescere e credevo che il mio aiuto a questa società potesse essere importante. Il prossimo appuntamento per la ventesima giornata di Serie B è l'impegno di sabato contro la seconda in classifica, Virtus Valmontone. Certamente è un passo avanti verso la nostra maturazione, sicuramente come ti ho detto prima, vedere a che punto è il processo di ristrutturazione del gioco della squadra e un nuovo appuntamento davanti ai nostri tifosi per fare bene.